Ciao Sergio, caro il mio ex presidente della Repubblica. Abbiamo fatto i passi avanti, eh? Sì, in questo momento sono in cantina e dalla porta della cantina posso vedere se arriva mio marito con le chiavi di casa. Sono tutti i cazzi tuoi adesso, Sergio, perché io non perdo tempo, sai? No, io sfrutto sempre le difficoltà a mio vantaggio e siccome ho tutto questo tempo a disposizione, ancora un'oretta buona, ci sono ancora delle cose che ti voglio dire, caro ex presidente della Repubblica. Siccome sono una persona molto educata, non fumo sigarette nel portone, non sto a blaterare nelle scale per non disturbare i miei vicini di casa. Sono una persona talmente bella che mi meriterei un presidente della Repubblica di gran lunga migliore di te. Quindi adesso siamo entrati nel semestre bianco, tu sei dimissionario e questa accozzaglia di parassiti, che sono sia la maggioranza che l'opposizione, dovranno votare il nuovo presidente della Repubblica. Ma vuoi vedere che questa volta, siccome il consenso che avete tra la popolazione è pari a un infimo, secondo me, 20%, ma neanche il 20% vi sopporta, forse anche meno, chissà che questa volta non vi decidiate a fare una presidente della Repubblica donna. non mi stupirebbe, ma voi non sceglierete una brava persona. Voi sceglierete di nuovo un burattino che sia utile ai grandi interessi finanziari delle case farmaceutiche, delle multinazionali. No, non sceglierete qualcuno di cui sentirsi orgogliosi di averlo come presidente della Repubblica. Voi, quelli come te, voi abitate nelle vostre dimore lussuose. Tu dove abiti? Al Quirinale, Sergio? Pagato da noi, vero? Te lo paghiamo noi, quel bell'appartamento che c'hai al Quirinale. Eh? E gli altri? E Conte dove vive? Vive al Viminale, pagato sempre dalle nostre tasse. E gli altri politici dove vivono? Nelle loro belle ville, con quello che prendono di stipendio. Sarebbe stupido se vivessero in un appartamento normale come me. Quindi voi non avete la più pallida idea di come si vive. Voi non uscite per strada a fare due passi. Voi non andate a fare di persona la spesa per vedere che cosa succede dal panettiere, dal macellaio, dal pescivendolo, dal besanino, come lo chiamiamo noi a Genova, quello che vende la verdura, il fruttivendolo. No, voi non uscite mai di casa. Che cosa avete? La donna di servizio? Cioè avete la donna che vi fa le pulizie, la donna che va a prendere e fare la spesa, oppure magari no. Magari siccome quelli di cosiddetta, i sinistri, perché quelli non sono più di sinistra, quelli sono di ultradestra. Che cos'hanno invece? Magari hanno il maggiordomo. Ce l'avete filippino? Voi non uscite mai dalle vostre dimore e non avete la più pallida idea dell'impatto che hanno avuto le vostre regole sulla popolazione e sulla vita della popolazione. Sergio, tu sei il Presidente della Repubblica e dovresti essere il garante della Costituzione. E se c'è una cosa che è ben chiara nella Costituzione è la dignità della persona umana. Voi avete calpestato la dignità della persona umana e state continuando a farlo. Secondo avviso, non siete autorizzati a parlare per me discendente di deportato sepolto in una fossa comune di un lager. Voi la giornata della memoria non avete il diritto di parlare per me, perché io porto il cognome di quel deportato. Il cognome lo porto io e quindi io ne parlo, non voi. Alla prossima Sergio, c'ho ancora tante cose da dirti.